Ciao amici di Pensare Mac, un saluto da Manuel Agostini, me lo avevate chiesto in tanti un videoconfronto tra la Action Cam S1 di EasyWiz e un prodotto di fascia più bassa e così ho scelto la CX di Activeon, un action cam che ho trovato davvero molto buona ha un sensore da 5 megapixel invece che da 16 e uno schermo LCD incorporato ma viene venduta a oltre 100 euro in meno rispetto alla S1 e allora io direi di partire a fare il videoconfronto video su video, foto su foto e poi come sempre vi chiedo nei commenti di farmi sapere voi quella che trovate più interessante Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!